Non è in pericolo di vita ma è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Niguarda Nathan Graf, l'uomo appartenente alla comunità ebraica di Milano che ieri sera è stato ferito a coltellate mentre ritornava a casa in via San Gimignano nel quartiere ebraico milanese. Ad aggredirlo, secondo le prime ricostruzioni, un uomo con il capo coperto da un passamontagna che lo ha prima inseguito e poi colpito ripetutamente alle spalle, alla gola e al volto con un coltello. Nella colluttazione l'aggressore ha però perso il passamontagna ed è stato descritto come persona con carnagione chiara e capelli biondi. Quarantenne, genero di un rabbino di origine afghana, Nathan Graf indossava la kippah, il tradizionale copricapo ebraico ed era quindi riconoscibile. Il timore diffuso nella comunità ebraica milanese è che possa trattarsi di un episodio riconducibile alla intifada dei coltelli che ha provocato morti e feriti in Israele ma anche in Francia. È così, diciamo sì, però non vorremmo pensare che sia una cosa, una nuova forma di tiro al bersaglio. L'episodio ha avuto grande risalto in Israele anche se al momento non è ancora chiaro il movente dell'aggressione. Questa mattina si è svolto in prefettura a Milano un vertice. La vigilanza agli obiettivi sensibili è stata intensificata. Sarà il pool dell'antiterrorismo guidato dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli ad occuparsi delle indagini. La situazione nel quartiere ebraico di Milano appare oggi tranquilla e anche la scuola ebraica che vi si trova è regolarmente aperta ma presidiata dalle forze dell'ordine. Una condanna senza sé e senza ma di quanto accaduto è stata espressa anche dall'Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner a Milano.